Pi 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 Possiamo essere qualunque uccellino tu voglia Wow È bellissimo Pi piu 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 E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Stefano Che soggiorno che mi ha Roblox E siamo di nuovo qui con un tre mappi in uno Forse due non lo so Perché va sempre a finire Che ne facciamo di meno È così bello Bear Simulator che giochiamo solo a questo Esatto inizieremo proprio con questa mappa Penso che Stef sia stato molto esplicativo durante l'intro Vi ha spiegato bene il senso di questa mappa Devi smettere Qui si fa diverso il verso Sembra che stavi sparando Si fa Era meglio il mio vero? Non lo so Comunque il senso di questa mappa è di appunto simulare la vita di un bellissimo uccellino Al momento ne abbiamo due Perché giustamente non abbiamo guadagnato punti E poi man mano che si va avanti si sblocca addirittura l'aquila Cioè stai scherzando? L'aquila reale 300 tokens Mille Robux Cioè me la sto già comprando Quanti sono mille Robux? Dove mille? Vedi un uccellino nel laghetto? No Non so come incontrarci Cogliattoli Io sono seduto in un laghettino Allora ti cerco dai Ti cerco Vediamo i laghetti Vediamo se ti becco Perché ti devo far vedere un sacco di cose Perché io ho giocato un sacco a questa mappa Quindi te la devo far vedere Però aspetta Mi dice premi 1, 2, 3, 4 per chiamare Chiamare che io cosa? No Fai i fischi da uccellino Ciao bella Allora Premi 1 Allora Aspetta Vai 2 3 Al mio 3 parte la canzoncina Vai Devi fare 3, 3, 1, 4, 2 Vai Non ce l'ho il 4 E ho livellato Io sto facendo 3, 3, 1, 4, 2 all'infinita Io sto facendo il remix Dei 5T Smettiamola Torniamo ad essere persone serie ok? Ti posso fare la popo in testa? No Allora Quando stai in acqua Ti volevo dire Che bevi Posso bere Esatto Però hai bisogno anche di mangiare Quindi tu devi andare in giro A cercare Oh sono salita a livello 3 Io a livello 2 Ah che bello Sì perché ho giocato più di te E ho fatto altri 5 token Se ti dice Posso mangiare questa lontra? No Hai bisogno di mangiare No O dai fiorellini Se sei una specie che puoi mangiare dai fiorellini Io lo so che cosa Ce l'hai in basso a destra Quello che puoi mangiare Ah le fragole, i fiori e i semi Ok Allora io Quindi le lontre no Purtroppo Mi dispiace Allora Ecco un fiore Ho trovato due semini Che buoni Ok sono di nuovo pieno Dove stiamo andando di preciso? Eh a fare una gita Dimmi Qual è il senso di questa mappa? Vivere la vita da uccellini Ok per quale motivo quindi? Perché tutti sognano di essere un uccellino nella vita Sì guarda in questo momento lo sto desiderando tantissimo per volare dall'altra parte del mondo e non vederti mai più Quindi forse hai ragione Forse hai fatto bene a giocare a questa mappa Ma dai Ma perché è sempre cose brutte il tuo Stef? Dillo Perché tu scegli solo mappe brutte? È bellissima È un po' brutta È bellissima È super emozionante Aspetta No Con dei rumori in sottofondo Sei questo? Il vento Devo dirti una cosa Sono questo Sono No Me ne vado? Sei zitta? Ho sbloccato Ok La modalità challenge Che non so cosa sia Eh non lo so se non lo sei tu Non Ah Allora praticamente È costante Ora sì che si fa interessante Anche questo è costante tokens Sì 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 Un attimino di silenzio perché qua spiego bene Ok Che succede? Che cos'è sta schifezza? È gialla? È una lumaca grande quanto me Ma non puoi essere grande quanto una quaglia Uno affianca a me Ok E poi è uguale al tuo Alla tua stessa specie Quindi ti ho confuso Ok Sono mangiata E beh è normale buona Ma che schifo Ti spama un sacco E io prima ho mangiato un bruco giallo gigante E allora era la lumaca Era gialla gigante Ah sì Grande quanto me È un bruco Non è una lumaca mi sa No è una lumaca Dici? I bruchi sono diversi Non sai neanche come sono fatti i bruchi Guarda Scusami guarda questo Eh dove sei? No dico guarda il mio schermo Questa? È la lumaca Guarda Gnam Buonissima È di quelle lumache senza guscio Ho capito? Ok Comunque ti dicevo Praticamente con 5 tokens Ho sbloccato la maledità challenge Ho un tempo sopra E devo sopravvivere per più tempo possibile Ok Però il cibo e la sette scendono più in fretta Quindi ora si fa seria la vita da uccellino Eh sì sì E cosa pensavi che tutto fosse bello Si trattasse solo di mangiare Tu dicevi che sta mappa era inutile Ma guarda qua che emozioni vi regalo adesso Bellissima Oh no Eh Adesso sai cosa voglio fare io? Un simulatore di mappe brutte Ok Con un personaggio che piange tutto il tempo Per far capire come ci si sente Quando creano queste cose Guarda che questa mappa ha un sacco di likes Eh lo so Non so come sia possibile Vabbè nel mondo ci sono tante cose Che hanno tanti likes Che non se li meritano Quindi alla fine non mi sembra Un metro di giudizio buono Posso mangiarla? Ad esempio tu che fai un sacco di like Nelle foto di Instagram Non te ne meriti mezzo Ma come ti permetti? Eh sì non te li meriti Quindi me li merito solo io Ma se è patita? Ve li merito tantissimo cara No te ne dovrebbero mettere 5 E poi guarda che la foto Dove ho fatto vedere gli occhiali di Harry Potter Me ne hanno messi pochi Secondo me era un modo gentile Per dirmi che mi stanno male Capito? E quindi è un po' Mi sono un po' offeso Però non ho voluto dire nulla Te l'ho detto perché non te li meriti like Capito? Così come non se li merita questa mappa Sei uguale alla mappa Mi stai confrontando Alla mappa brutta di Roblox Sì esatto E non è un complimento Stai insultando la mappa No sto insultando a te Appunto Più la mappa Che hai scelto la mappa Quindi insulta a te Che hai scelto la mappa Sappi che sto mangiando Un sacco di cibo buonissimo Alla faccia tua Anch'io Bruchini, lumachine, noccioline Un sacco di roba Però sto per morire di sette Corri Steph Buttati nell'acqua Muori È impegnativa sta sfida Comunque dai cambiamo mappa Dato che Fereniki continua a insultarla Andiamo Non la stavi insultando A provare la mappa di nerf Dicevo la verità E vediamo com'è Se ci piace molto Rimaniamo su due mappe in uno Se non ci piace molto Neanche quella Decidiamo Perché Fereniki insulta tutto Facciamo anche la terza Non sappiamo neanche cosa dobbiamo fare Esatto Così si fanno i video Questo non è professionale Sul momento Dai Poi vedi che ti meriti pochi like Ora vado a mettere il dislike alle foto di Instagram Non c'è il dislike Eh vedrai che per Steph c'è Vedrai che per Steph c'è Non c'è Non c'è 45 dislikes a foto Ma che figata è Scusami Cosa devo Uh Ti ho appena ucciso Scusami Sei un criminale Siamo in squadra enemy Cioè contro È difficilissimo Di nuovo Come devo sparare scusami Cliccando a sinistro Uh La vendetta La vendetta è arrivata Così impari Come fare E poi lo usa per ammazzarmi Mi sembra giusto È difficilissimo sparare Però sto uccidendo tutti Perché è molto lego Lego vero? È molto lento Esatto Più che lego È molto Eh ma come se sparassi con le lego Tipo No ce l'hai presente la nerf Che spari proprio Quei cosettini di plastica Eh uguali Uguali Esatto Quindi l'hanno fatto totalmente uguale Allora edit classe Primary Siamo in squadra insieme stavolta Oh alleluia Stavo già andando ad ucciderti Ciao bella Ciao Stai attenta eh Stai attenta Ciao guardami Uh dietro di te dietro di te Dove? No mi hanno ucciso Ma fai schifo Io pensavo mi proteggesti Eh sì è morta pure tu Ha uscito pure me Certo Vabbè ma mica mia Pensi a correre Invece che a sparare Stavo pensando a salutarti È buona ad ammazzare solo a Steph Quando c'è da ammazzare qualcun altro Eh mi sembra giusto Non si impegna È difficile È troppo lento sparare Cioè è troppo strano Ok ce l'ho fatta Ricarico Non capisco Lo so lo so lo so Uffa Aia Oh dannazione Ok però uno l'ho ammazzato Ok bravo Steph Bravo Steph Oh ma sono scomparsi Cioè ne compare uno Una volta ogni tanto Sono salito di livello E hanno dato Come? Sì ho fatto level up Adesso sono livello 1 Prima evidentemente ero livello 0 Ho fatto un headshot Che bello Brava Che bello Sì però Guardate Cioè sono addirittura Di più di noi al momento Perché i blu Sono appunto meno Degli arancioni Però io non capisco Perché secondo me Non capiscono Che devono fare deploy Capito Quindi non vengono proprio Nella mappa No dai non credo Non credo E beh per forza Amica mia non ci sono Sono 45 E magari sono FK e basta Sono di quelli che Oh che kill di Steph Poi se ne vanno E non si accorgono Che il gioco continua Capito? Best kill ever Non ti gasare troppo Che poi muori Era fenomenale Un'altra di Steph Attenzione Ti sto servando Ti sto servando Attenzione Attenzione Ciao bella Ciao Allora Uh vado dietro Un'altra per Steph Lì sono Guarda vieni uccidiamoli Aspetta aspetta C'è un sacco di gente Stai attenta eh Eh mi uccide Però io non riesco a spare A fa schifo Ok C'è un nemico C'è un nemico Ok l'hanno ucciso Bravissimi compagni Ah devo ricaricare Mi copro qua dietro Datemi la mano amici Che tattiche Mamma mia È perché sono A tipo 3 o 4 kill di fila Voglio continuare Ok Mi sa 4 di fila C'è qualcuno? Ecco sono riscomparti Dai per un attimo Era divertente Perché finalmente La gente capiva Come scendere No perché se ne stanno Molto in base Se tu vai verso i loro punti Di spawn Li trovi E io un po' li ho capiti Quali sono Adesso dove trovarli Ma c'era un arancione Qua è scomparso Ha sicuramente Andato di qui Eccolo Però vedi loro spawnano In queste zone qua Se tu stai qua Ne trovi un sacco Ah aspetta Sono nella sfida In un corridoio Con un tipo Mi sto muovendo A zigo zago E mi ha preso D'andazione Ecco qua Lo sapevo che era Una pessima idea Andare lì 7 punti abbiamo vinto Provo la pistola Perché sono curioso Tanto peggio di così Come si cambia? Con 2 Ma ti dirò Double kill Subito Con la pistola Perché è un po' più Stabile la mira Ah ecco Con tasto destro Vero? Sì 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 Anche se poi spara In modo molto strano Sì però ammazza comunque Con un colpo Allora 3 kill E ce l'abbiamo fatta 3 kill Dai impegniamoci E ce l'abbiamo fatta Forza Ho visto un arancione qua E infatti Prendilo È già morto Ce n'è un altro qui Che è successo? Non lo so Penso sia finita Forse ce l'abbiamo fatta Ah c'è Quando finisci Neanche te lo dice Evidentemente sì Ok Fammi vedere Aspetta Voglio la conferma Sì è cambiata mappa Wow Neanche ti dice vittoria No Nulla Nulla Tu continui a giocare Senza avere uno scopo Continui a sparare Esatto Non lo devi neanche guardare Il risultato Devi giocare e basta L'importante è divertirsi Non vincere Per quello non te lo dicono Ah ok La cosa che non mi piace È che per la prima arma Decente che ti puoi comprare Devi essere a livello 4 Dai comunque direi Di fermarci così Per questo video Abbiamo provato due mappe Abbastanza interessanti In che se Feriniki Non ha apprezzato La mia bellissima Mappa Bird Simulator Non piace neanche a te Quindi non dire festeria Dai Era bellissima Zitto La challenge Guarda mi stava entusiasmando dentro Io sinceramente non sapevo Allora torna a giocare Ti lascio tutto il giorno a giocarci Così poi ne riparliamo Guarda Ok E farò finta di divertirmi Esatto Per tante ore Bene che ci riesci così Si è giusto Lasciateci un like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Ciao alla prossima!